Ok ragazzi, a posto, a posto, ci presta il furgone. Ma dai. Cioè non è che proprio ce lo presta, l'ho messa sull'agonismo. Me lo son giocato a una gara con quelle macchine lì. Se vinco ci dà il furgone. Ma sei scemo, quello fa l'istruttore, che ha la metà dei tuoi anni. E il doppio della muscolatura per altri. Ragazzi ma con chi credete di parlare? Io ho insegnato kitesurf sei mesi in Brasile. Ma che c'è il kitesurf? Non è sempre vento? La stessa cosa, guarda. E se perdi che succede? No, no, nessun problema. Perché è suo amico, un debole per te. Se perdiamo, passi la notte insieme a lui. Non ho capito, che devo fare? Devi passare la notte insieme tranquillo. No, se perdo niente. Noi gli diamo 6.000 euro e ci dà il furgone. E chi ce li dà 6.000 euro? Come chi ce li dà? Lui. Ah, lui. Io per 6.000 euro ci vado con quello. Sicuro? Sì. 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 Sì.